Ben trovati a Prima Pagina Salute, quest'oggi filo diretto con la Commissione Sanità Regionale, ospite della puntata Margherita Larocca Ruvolo, presidente della Commissione Sanità Regionale a Lars. Ben trovata dottoressa Larocca. Grazie, grazie mille e ben trovati voi. E allora, in questa puntata lei ci illustrerà quali saranno gli argomenti che discuterete nelle prossime commissioni. Domani si riunisce la seduta della Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari. Ci sono un po' di punti all'ordine del giorno. Il primo punto riguarda le problematiche della sanità nelle isole Pelagia. Ecco, partiamo da questo e poi vedremo quali sono gli altri punti all'ordine del giorno. Sì, molto volentieri. In pratica parliamo, in genere le richieste arrivano dai territori, la Commissione opera cercando di raccogliere quelle che sono le istanze, i disagi, le preoccupazioni, che parlando di sanità ogni territorio avverte. Insomma, ecco, quella di domani intanto con le isole di Lampedusa e Linosa perché è inutile dire che i disagi dell'isola sono notevoli. La richiesta arriva da un'associazione, so per aver parlato col sindaco che già il presidente della regione con l'Asp 6 di Palermo hanno iniziato un percorso per cercare di superare le criticità che l'isola vive. Però, diciamo, da parte del territorio abbiamo raccolto la richiesta che arrivava da questa associazione e domani sentiremo quali sono le difficoltà nello specifico. Presumo si tratti ancora una volta del discorso del venire in terraferma per essere curati, del fatto che la gente poi deve sostenere spese non indifferenti per poter stare a Palermo. Ricordo a me stessa che, pur essendo in provincia di Agrigento, le isole Pelagie afferiscono all'Asp 6 di Palermo, quindi la gente poi deve trasferirsi in città per poter avere le cure necessarie. E sicuramente con l'arrivo nuovamente di questa ondata di immigrati, con il periodo estivo, ci saranno delle criticità legate all'assistenza sull'isola. Quindi questo sarà il tema di domani. Abbiamo poi però altre audizioni, sempre nella giornata di domani. Un'altra riguarda una questione, credo che l'ordine del giorno sia stato integrato questa mattina, riguarda una vicenda su Messina per una situazione che si è venuta a creare con un sindacato in particolare, quindi affronteremo anche questa. I medici mi pare che ce ne sia una del 118, perché il 118 da un lato c'è in atto una riforma, abbiamo un disegno di legge depositato da parte del governo e da parte di alcuni colleghi deputati e stiamo cercando di capire se può questo disegno di legge andare avanti per poter avere una riforma del sistema. Ma nel frattempo le criticità che sul territorio ci sono rimangono. Credo che uno dei problemi del 118 è la richiesta di audizione di domani è legata un po' al disegno di legge che si porta con sé alcune perplessità che devono essere chiarite. E dall'altro lato nella fase della stesura della finanziaria Covid avevamo messo una somma, avevamo detto una somma, un incentivo per il personale che ha operato nella fase critica, nella prima fase. Queste somma ancora non arrivano e credo che qualcuno voglia capire come mai ancora non c'è l'incentivo stabilito dall'Assemblea regionale. Poi lei all'ordine del giorno mi può ricordare, c'è un terzo punto in questo momento? Sì, ci sono un secondo e un terzo punto. Il secondo riguarda le norme sulla disostruzione pediatrica e poi ci sarà l'esame del disegno di legge per quanto riguarda la prevenzione, il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo. No, di fatto ecco, questo non riguarda nello specifico un disegno di legge che deve essere esitato. Il disegno di legge dalla Commissione è stato esitato, riferendomi al trattamento della patologia, grazie al cielo devo dire, meno male. Domani avremo la possibilità di approvare, di valutare la relazione tecnica che dall'assessorato arriva. Questa relazione tecnica è stata più volte chiesta, voi sapete che se non c'è la relazione tecnica da parte dell'assessorato di competenza, un disegno di legge non può continuare l'iter, quindi rimane impantanato, diciamo così, tra la Commissione Sanità e in questo caso la Commissione Bilancio. Sono arrivati tutti e due i pareri tecnici, quindi quello che riguarda la disostruzione pediatrica che è a firma della collega Valentina Palmeri, dell'ex Movimento 5 Stelle, oggi non è più Movimento 5 Stelle, e del disegno di legge sul gioco d'azzardo che era a firma mia e di altri colleghi. Questa è un'ottima notizia, tutti e due, sono due ottime notizie perché questi disegni di legge, almeno la disostruzione pediatrica, tanto richiesto dai pediatri, ogni disegno di legge ha un percorso propedeutico che è dato dalle audizioni fatte con gli addetti ai lavori, con le associazioni di categoria, con il mondo del volontariato, c'è tutta una serie di attori in qualche modo che su quel disegno di legge portano il loro contributo in termini di valutazioni. Tutto questo è stato già fatto da parecchio tempo e da un anno che abbiamo esitato quello sul gioco d'azzardo e da circa 6-7 mesi quello sulla disostruzione pediatrica. Avere ricevuto le relazioni, esaminarle domani, vuol dire portare questi disegni di legge presto in aula, questo è l'auspicio, e quindi avere una norma per l'una e per l'altra questione. Sì, bene, allora poi ci darà notizia dell'esito della seduta di domani, mentre l'8 luglio si parlerà delle problematiche che riguardano l'intrattenimento, gli spettacoli in seguito all'emergenza Covid-19. Molti locali, molte attività hanno riaperto, hanno ricominciato con gli spettacoli, ma insomma domani discuterete delle buone prassi che si dovranno e si dovrebbero mettere in pratica per svolgere tutto ciò in sicurezza. Certo, infatti la richiesta degli operatori turistici in una commissione sesta così detto non ci sta, ci sta nella misura in cui si attendevano le linee guida, queste linee guida non sono ancora venute fuori e quindi tutti gli operatori del settore che a mio modo di vedere è un settore che sta fortemente soffrendo, sta fortemente risentendo nella fase 1 della chiusura totale, nella fase 2 di una, diciamo così, poca chiarezza su come organizzare gli spazi. Allora domani, mercoledì, l'audizione che viene chiesta proprio dagli operatori del settore della zona di Catania ha proprio come obiettivo cercare di capire come devono fare, come si devono muovere. Mi auguro che venga l'assessore oltre che i funzionari dell'assessorato proprio per cominciare ad individuare un percorso e fare chiarezza, anche perché dai dati che stanno emergendo, pur essendo noi ancora una volta un'isola graziata in termini di contagi, in termini di diffusione del virus, però questa cosa non ci può fare stare così tranquilli perché vediamo cosa sta accadendo in questa fase 2 al nord. Lazio, Emilia, Veneto e Lombardia ancora una volta sono sotto assedio, se vogliamo dirla in termini proprio senza fare terrorismo, però la preoccupazione torna a risalire per i numeri che sono tornati purtroppo a risalire. Quindi su questo non bisogna abbassare la guardia da un lato, ma dall'altro lato questi operatori bisogna in qualche maniera metterli nelle condizioni di lavorare, di poter utilizzare e sfruttare questa stagione turistica per quello che si può, sicuramente è una stagione che li penalizzerà fortissimamente, però bisogna tentare e trovare un percorso per non far perdere loro quello che hanno o che possono recuperare. Una cosa che mi preme dire anche, tornando proprio al Covid, domani si insedia una sottocommissione in Commissione Sanità ed è una sottocommissione per valutare quello che è stato fatto durante la fase del Covid. È una commissione di indagine coordinata dall'Onorevole Cracolici, perché il PD un paio di settimane fa aveva chiesto addirittura con mozione di fare una commissione di inchiesta per capire sulla questione dati e numeri errati che c'erano stati, come era possibile, come era accaduto tutto questo. Da quest'input che arrivava dal Partito Democratico ne è venuta fuori invece la composizione di una commissione di indagine che comincerà domani mattina alle 10, intanto si insedierà. Già domani nel pomeriggio, dopo la commissione ordinaria istituzionale da me presieduta, lavorerà per capire cosa è accaduto, cosa è successo e il motivo per cui ci sono stati questi numeri sbagliati. Quindi tutto questo verrà fatto domani. Nella giornata di domani la commissione lavorerà sia nelle giornate di martedì che di mercoledì, subito dopo la commissione ordinaria. Ecco, è giusto dirlo proprio per dire che questo Parlamento lavora quasi sempre in accordo di vedute in termini di forze politiche diverse e anche di concerto con l'assessorato. Siccome i dati, questa cosa dei dati ballerini, errati, non errati, giusti, eccetera, ha innescato una serie di preoccupazioni, allora il Parlamento vuole vedere chiaro su questa vicenda. Benissimo Presidente, io la ringrazio. No, sono io che ringrazio voi. Sono contenta di questo momento di confronto, anche perché è bene che i cittadini sappiano cosa si fa e cosa fanno le varie commissioni, nello specifico la mia, quella che sto presiedendo. Anche perché è bene dire che noi durante la fase del Covid non ci siamo mai fermati, abbiamo sempre lavorato e stiamo lavorando in videoconferenza con l'esterno, ma noi come politica, come deputati ci siamo e stiamo lavorando da subito, insomma forse i primi dieci giorni abbiamo un attimo tergiversato, ma poi si lavora a pieno regime proprio per legiferare da un lato e dall'altro lato per fare da ponte con le difficoltà e con le problematicità che dal territorio arrivano. E allora Presidente, io compatibilmente con i suoi impegni le rinnovo l'invito per lunedì prossimo per aggiornarci su quelli che saranno i lavori di questa settimana, per il momento la saluto, la ringrazio, ringrazio. Grazie, sono io che saluto voi, vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro e una buona settimana. Grazie a lei, io ringrazio anche tutti voi spettatori e spettatrici che ci avete seguito, la puntata di oggi termina qua. Grazie a lei, io ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio,